Salve cari appassionati, prima di proseguire con il calendario dei video già prestabilito per le prossime due settimane, ho avuto l'onore di ricevere la nuova edizione di Pazzo Glory e quindi faccio questa sorta di fuori programma dedicando il video all'unboxing, all'analisi dei componenti della nuova edizione di Pazzo Glory, la Deluxe Edition, un gioco che ha 20 anni, un gioco che appunto pubblicato per la prima volta nel 1999, ho avuto l'onore di cominciare a giocarlo nel 2001 e non l'ho più abbandonato, forse negli ultimi anni l'ho giocato così tanto che ho avuto una crisi di rigetto, tanti tornei sono stati fatti con Pazzo Glory, ricordo anche il nostro campionato europeo, si sta disputando proprio la finale fra un giocatore italiano della nostra associazione, Mauro Gasbarroni e un giocatore polacco, il WBC, la grande associazione americana organizza ogni due anni il torneo a cui ho avuto onore di partecipare e di arrivare in una finale memorabile e ricordo che gli americani hanno modificato un pochettino il design originale per rendolo più simulativo rispetto diciamo all'aspetto ludico, francamente lo preferivo prima in cui si poteva essere più creativa con lo scenario storico e avrò modo di parlarne in una serie, non una serie di video, in un video che dedicherò proprio espressamente a come giocare Pazzo Glory, chiaramente i grandi generali che l'hanno giocato fino adesso non ne hanno bisogno ma si potrebbe anche allargare la schiera e auspico una traduzione italiana di questo grande gioco, non è la lingua che impedisce agli appassionati di approcciarlo ma faciliterebbe molto l'allargamento degli appassionati di questo sistema che ricordo è di Ted Racer, l'immagine di copertina è del grande Roger McGowan, non è cambiato niente rispetto alle scatole precedenti, forse la scatola è più rigida, di materiale più rigido con colori in questo caso più brillanti ma sempre ben fatta, vediamo il retro che cosa ci dice, se è cambiato qualcosa, sì ovviamente dimentico di dirvi che abbiamo una nuova, abbiamo una mappa montata double face, poi lo vedremo più in dettaglio e ve lo farò vedere in un'immagine più grande, abbiamo una mappa e vedete questa, una mappa diciamo in cui sono stati messi in evidenza tutti gli stati mentre prima diciamo che era più uniforme, è diciamo più geografica, consentitemi di usare questo termine e più leggibili, ai fini del gioco non cambia molto ma diciamo è un'alternativa interessante che ci costringe a noi collezionisti di comprare per forza questa scatola anche se possediamo le precedenti 5, ricordo che può considerarsi questa la sesta edizione, nelle precedenti le regole non sono mai cambiate, ci sono state le aggiunte di chiarimenti ma niente particolare, ricordo che è prodotto in Cina e questo probabilmente è la ragione per cui da come ho sentito ci sono 5 carte che sono state sbagliate, la 3, la 5, la 8, poi andrò a vedere in dettaglio in cui manca una riga finale, niente di particolare però insomma si presumeva che dopo 5 edizioni non venissero più sbagliate le carte, anzi, non sono d'accordo sulla giocabilità in solitario, forse lo scenario storico ma questo è un gioco che richiede il massimo dell'interattività o studiamo un sistema per renderlo veramente solitario, altrimenti no, non sono d'accordo sulla solitaria, suitability 7 e ripeto se uno vuole imparare a giocare d'accordo ma se vogliamo parlare di un sistema in solitario, no, Passo Glory non è un sistema in solitario, non è simulazione, è più gioco ma giocarlo in solitario secondo me perde il fascino, la sua veramente, la sua validità. Esiste una guida che è introvabile, io grazie a Dio ne ho due copie, una guida che però è inutile possedere a meno che delle carte aggiuntive in quanto dà dei consigli che all'epoca forse per i neofiti possono essere validi, poi uno si accorge che segue tutto meno che i consigli della guida. e la componentistica non è cambiata ma andiamo ad aprire la scatola e vediamo un po' cosa troviamo al suo interno. Ecco qui finalmente una versione colorata delle regole con che riporta l'immagine sempre di Roger, finalmente i colori, ricordo che le precedenti versioni erano in bianco e nero vedo dei quadri rossi che indicano questi quadri rossi delle modifiche, vediamo un po' cosa dice il quadro rosso indica it's a new rule or significant changes, praticamente una nuova regola o modifiche sostanziali. Invece possiamo trovare le sottolineature che vanno a dare un chiarimento della regola. vediamo un po', lower number priorities take precedence, questo era già noto, l'abbiamo chiarito, ci sono delle unità che devono prendere prima le perdite, in questo caso da un esempio del corpo di ispezizione britannico che deve prendere le perdite prima del corpo di ispezizione nel medio oriente, se sono staccate assieme, se sono impilate assieme in un esagono, ma niente di particolare perché non accade quasi mai. Nello scenario specific rules dell'istorico, lo scenario abbiamo le famose regole opzionali delle otto carte, nulla di nuovo, la mandated offensive britannica diventa automaticamente una francese al turno 1, niente di particolare o meglio nessuna novità per chi ha giocato con le regole dello scenario storico. Peace terms are not allowed, principalmente c'è una regola che permette di offrire la pace e può dare effetti positivi o negativi, ma nello scenario storico l'offerta della pace non è permessa, io lo farei per tutti gli scenari in ogni caso. Vediamo un po', sfogliamo le regole se ci sono altri cambiamenti, c'è la 11-1-13, quando la Turchia entra in guerra, Kermanshah diventa controllata dalle forze dell'asse, dal Central Powers, nulla di particolare, e tutti gli spazi persiani diventano controllati dall'alleato, non ha nessuna influenza sull'andamento del gioco, vediamo un po', è solo un chiarimento, finalmente esempi colorati, vediamo un po', qui abbiamo solo dei chiarimenti, le unità possono essere trasferite dal box di riserva in qualsiasi spazio che contiene un'unità rifornita della stessa nazionalità, ok questo già si sapeva, forse manca un chiarimento, eccezione, le unità russe, rumene e serbe possono tracciare rifornimento alle linee punteggiate che connettono alle fonti di rifornimento russa, già si sapeva, nulla di che, solo un chiarimento, niente, le regole rimangono, grazie a Dio, invariate, mi pare, ecco qui ci sono esempi più completi dell'apertura con Guns of August, abbiamo un esempio chiarificatore, il setup adesso non è più riportato in ultima pagina, ma prima delle carte, ecco qui, le ultime pagine sono dedicate adding more parts to your deck, in pratica queste sono le otto carte che erano contenute nella guida, ora fanno parte dell'edizione deluxe, molto bene, ho giocato poche volte con queste otto carte, francamente aggiungono poco o nulla, anche se ci sono delle carte che danno dei punti che potrebbero essere importanti per il computo finale del punteggio, sommario del special rules, summary, index, ci sono le developers notes di Ted Racer, beh, d'accordo, spiegano le piccole novità, è bella anche l'immagine, diciamo, l'ultima pagina di chiusura. Ah, il leader, il progetto leader della sesta edizione è Tom Gregorio, e c'è una Dower, Golding, Hubbard, Leeds, Simonich, ho avuto l'onore di giocare con questi ragazzi, con questi amici a Paths of Glory, abbiamo ancora i playtester, Rules Lawyers, ancora Gene Billsley, Ben Knight, Steve Kosakovsky, Dennis Mason, abbiamo veramente una grande squadra che ha partecipato allo sviluppo finale di Paths of Glory, presumo che sia lo sviluppo finale. Ecco qui le aggiunte una War Statues Track, non c'erano le precedenti unizioni, diciamo che indica, dato che Paths of Glory prosegue, il progresso di Paths of Glory è fatto per livelli di guerra, indica le carte che aumentano i livelli di guerra. Poi abbiamo una simpatica carta tabella rinforzi, certo ricordatevi che sono le carte che determinano i rinforzi, qui si chiarisce meglio, si dà un quadro dei rinforzi che arriveranno nella fase di mobilization, di limited war e total war. Abbiamo poi delle nuove tabelle del terreno più colorate, non cambia nulla, vengono chiarite maggiormente, sono più curate graficamente, ne abbiamo due, una per giocatore. Andiamo ai counters, i counters questo è il secondo foglio counter, questi sono i corpi, non cambia nulla, simbolo in atto, sempre cifre ben leggibile, ok le trincee secondo me sono sempre abbastanza brutti come marker, però d'accordo, in questo caso non si sono sbizzarriti con la fantasia. Anche il primo countersheet non cambia nulla, abbiamo dei counter che indicano il punto perso quando non si esegue la vittoria, l'offensiva obbligatoria in ogni turno, anche qui nessun cambiamento. E finalmente arriviamo alla prima vera novità della scatola, cioè la mappa, cercherò di fare una foto della mappa completa e vi apparirà nel video che andrò a sistemare. Ecco qui, vedete, ci sono i confini più evidenziati, adesso poi girerò la mappa per farvi vedere le differenze, vedete c'è il Near East con una tendenza più scuro al marroncino e con i quadrati di montagna più evidenziati, giriamo la mappa, andiamo a vedere, ecco qui, potete vedere l'Italia, ecco vedete più chiara, francamente, vediamo un po', riguardiamo, se abbiamo, ma francamente questa è più scura e questa è più chiara, vabbè, forse poi vedremo quale permette di giocare meglio, secondo me a una prima, at first sight, a prima vista, mi piace ancora la vecchia, però vedremo a mappa piazzata e poi abbiamo delle raffinatezze nella nuova mappa, ecco vedete dei doppi tripi colori nel titolo, ma nulla di particolare dal punto di vista del gioco, non altro del gioco, abbiamo le solite bustine, due dadi, decenti, li vorrei sempre con gli angoli smussati, invece sono sempre con gli angoli abbastanza vivi, non mi entusiasmano, e arriviamo alle carte, le ho già aperte perché ho voluto vedere i problemi che avevamo nelle carte, ve le faccio vedere, per esempio nella 3 abbiamo che manca l'ultima other nationalities, manca una riga, e vediamo un po', non c'è l'errore in Guns of August, avevamo anche l'errore in Landwehr, non può essere giocata a Berlino, manca una riga, quindi ci sono 5 carte, potete scaricare il testo e la stessa carta dal sito della GMT, e in queste 5 carte praticamente manca l'ultima riga di spiegazione, nulla di che però alla sesta edizione ci saremmo aspettati di una assoluta perfezione nel quanto riguarda la produzione del gioco. In ogni caso la componentistica e l'analisi componentistica è completata, sempre abbastanza gradevole, nulla eccezionale, francamente adesso non ricordo il prezzo, ma mi pare che il prezzo pieno sia 75 dollari, e probabilmente sul mercato italiano arriveremo anche a 79 euro, voglio, sono curioso di vedere il prezzo in euro, e non ho controllato, ma in futuro andrò a verificarlo. Grazie per l'attenzione, restate sintonizzati, sia per il prossimo video dedicato alla rivista Modern World, sia per i consigli strategici di questo grande gioco sulla prima guerra mondiale di Ted Racer. Grazie e alla prossima!